Con un gol di Munard a metà del secondo tempo il Salerno ha battuto l'Arzacheno, una vittoria pesantissima perché è giunta al termine di una gara molto combattuta ed equilibrata e che coincide peraltro con la sconfitta del Marino a Selagis. Dunque Salerno che torna ad essere primo, come segnala Perrone, in vetta da solo in attesa dell'esito del ricorso per quanto riguarda la partita Salerno-Sora. 19 minuti e il vantaggio del Salerno, un pasticcio difensivo della formazione di casa, ne approfitta De Cesare che rientrava dopo tre turni e realizza l'1-0. Poi l'Arzacheno che in precedenza aveva creato qualche pericolo pareggia subito dopo con una bella conclusione ed esterno-destro in diagonale sul secondo palo di Meris, giocatore molto bravo che ha creato più di qualche problema a chi è letta. Salerno è molto combattiva, determinata con un pressing molto alto che ha avuto sull'1-1 anche delle opportunità per passare ma non è riuscita ad essere concreta. Nella parte centrale del primo tempo anche una mischia che si è scatenata a centrocampo, una sorta di mini-rissa, insomma un battibecco poi sedato dalla terna arbitrale, ne hanno fatto le spese Pitta e Montervino che sono stati ammoniti. Dopo tre minuti dall'inizio della ripresa un clamoroso errore da parte della terna arbitrale che non ha visto un rigore apparso nettissimo, che poi ha determinato le proteste anche pagateci e parso da parte dell'allenatore Perrone che per la prima volta nella sua carriera da calciatore e da allenatore è stato espulso. Ma tant'è naturalmente senza Perrone, ma è solo una coincidenza, il Salerno probabilmente scosso dalla espulsione del suo allenatore è anche complice, un calo comprensibile dell'Arzachena, ha cominciato a prendere confidenza con l'area avversaria in avanti De Cesare e Munar sono stati molto bravi anche nel tenere palla e proprio una iniziativa di De Cesare che ha seminato due avversari e ha dato palla dentro a Munar ha appunto fruttato il gol del 2-1, un gol pesantissimo che poi il Salerno ha gestito nel finale della partita. 2-1 e ovviamente una vittoria che riporta il Salerno in vetta da solo alla classifica del Girone G.